La mia passione per la moda è iniziata sei anni fa e ho deciso di aprire assieme a una mia collega un blog che si chiama fashionaporte.org e ho iniziato in Puglia e insomma la Puglia mi ha portato a spingermi anche un po' verso Milano, insomma la capitale appunto della moda ho iniziato scattando foto outfit come interpretavo appunto i miei look quotidianamente ho avuto un bel po' di seguito i miei viaggi continui a Milano mi hanno spinta appunto a trasferirmi, a prendere questa decisione di trasferirmi a Milano però spesso e volentieri ritorno in Puglia perché lavorando anche come stylist mi affidano svariati servizi fotografici e capaci pubblicitari da gestire un saluto a tutti i lettori di Otto